Salva a tutti, eccoci qua! Oggi vorrei parlare con voi un po' del nuovo gioco Pokémon, scarlatto, violetto, indipendentemente dalla versione che prenderete, perché ecco, ci siamo, non manca molto all'uscita, poco più di un mese, ma finora decisamente non ci siamo, non ci siamo. Non è che mi abbia convinto molto, da quello che si sono visti nei trailer, da quello che si è visto in giro. Alla fine sembra essere un gioco Pokémon, ma con la mappa aperta, con, diciamo, libertà di esplorazione, però alla fine, stringi, stringi, diciamo che non ho visto chissà quali elementi nuovi. Sì, ok, ci sono le trasformazioni, come dice Dario Mocha negli Swarovski, ho capito, ma è la Mega Evoluzione, la Gigamax, cioè alla fine è la classica, oramai, tra virgolette, meccanica di potenziamento, però niente di eccezionale. Quello di cui però sono curioso per questo scarlatto e violetto è il roster dei Pokémon, è il Pokédex, perché effettivamente le, diciamo, perlomeno i presupposti sembrano molto buoni. I modelli, purtroppo a livello grafico lo sappiamo, Pokémon non ci lavora. Game Freak non ci lavora, Pokémon Company non ha interesse a lavorare su questa cosa, perché tanto sa che vi andrà comunque. Io sono uno di quelli che lo acquisterà, alla fine mi diverte giocare a Pokémon, però ne riconosco i forti limiti. Ma, nonostante i modelli, per come siano realizzati, non brillino, magari per bellezza, bisogna dire che il design, le linee evolutive, ma in generale proprio i concetti secondo i quali, intorno ai quali sono stati realizzati i nuovi Pokémon, mi piacciono parecchio. All'idea dei due leggendari, che sono strani, non sembrano nemmeno Pokémon, sembrano quasi più Digimon, o comunque sembrano creature di un altro brand, però effettivamente sono belli, ma gli starter, per esempio, sono per me di grande livello. Poi, adesso, a livello di gioco, di come questo Pokédex sarà bello da giocare, perché magari si avranno diverse opzioni, perché magari avrà senso scegliere un fuoco piuttosto che un altro fuoco, oppure perché magari hai un'ampia scelta di Pokémon di diverso tipo, con tipi anche combinati, che sono interessanti da mettere insieme in una squadra, questo lo vedremo. Temo un altro gioco molto facile, anche se c'è una cosa, c'è una meccanica, non è neanche una meccanica, è proprio un concetto di game design che mi piacerebbe rivedere in una forma o nell'altra, anche se, non avendone parlato, temo che potrebbe non esserci, ma Pokémon tende a rilasciare anche diverse informazioni grosse a ridosso dell'uscita, quindi vediamo. In Spade Scudo c'erano i Raid, questi Raid che ponevano di fronte a questi nemici potentissimi che da soli, o in multiplayer ancora meglio, si potevano affrontare. Poi con i DLC, praticamente io, scherzando, dicevo ad un mio amico, è praticamente arrivato il G-Rank su Pokémon, parafrasando con, facendo il paragone con Monster Hunter. In realtà no, però comunque nel Pokémon Spade Scudo a un certo punto ha avuto i Raid dei Leggendari, il Dungeon, adesso non mi ricordo come si chiamasse, comunque il Dungeon fatto di, appunto di Raid contro i Gigamax da affrontare sempre più forti, e tutto di un fiato, quindi c'era in effetti una sfida, che magari a livello anche single player, però ovviamente è chiaro che è più divertente con altri giocatori, rendeva il gioco l'endgame del gioco sensato. Una cosa che io ho tanto sofferto in alcuni giochi Pokémon era una mancanza di un endgame per me interessante, e con questa idea in effetti Spade Scudo, pur essendo dei giochi per me mediocri, però si erano parzialmente salvati. Anche i premi dei Raid erano molto interessanti, i dischi con le mosse, le caramelle, o meglio non le caramelle, erano, non ricordo che cosa fossero, comunque diciamo gli oggetti per dare l'esperienza e far crescere molto in fretta magari altri Pokémon che si volevano testare. Era tutto molto intelligente da quel punto di vista, però era l'unica cosa che effettivamente era, si vedeva che fosse pensata per dare al giocatore quell'extra in più, dopo un gioco francamente noioso, noioso a livello proprio di sfida. Scarlatta e Violetto non penso saranno quelli che ci daranno un gioco difficile, un gioco impegnativo, scordatevi la difficoltà, se c'è un livello di difficoltà selezionabile stappo lo champagne, ma non penso. Ripongo tanta tanta fiducia in un gioco Pokémon, strano a dirsi, nei Pokémon. Voglio vedere i Pokémon nuovi, voglio vedere quanto sono belli da giocare, le mosse nuove. Io sono tanti anni che spero in un tipo nuovo, in nuove Evolution, queste novità grosse. Un tipo nuovo secondo me ci vorrebbe, sarebbe interessante, pace, per adesso sembra che non ce l'abbiamo, ma non lo so, sono fiducioso da quel punto di vista. ditemi voi che cosa ne pensate su Scarlatta e Violetto, se lo prenderete, quale starter andete a prendere. Io penso il tipo acqua, penso, non ho ancora deciso, ma il tipo acqua mi ispira, la paperella mi ispira simpatia. Alla prossima!